bella ragazzi mi sono qui sul canale di Gruner, siamo tornati oggi dopo una sconfitta abbastanza... e ormai io non dico più l'intro no e lui no non dice più intro perchè che cazzo però c'è un po' ogni volta che c'è la scuola abbagata ma ma quanto... di spazio occupa Lukaku vabbè dai eh oggi se deve vincere per forza vogliamo rimanere incaricciato per passare il turno bello 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 aspetta che ti tagli dall'altra vabbè fa niente boh qualcosa fallo! nooo nooo golle ah quel gioco oh oh che cazzo ma vaffa come è possibile pure avere amici miei amici amici e poi ti rubano la bici che era oddio oddio bello bello sopra 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 so picchiata dall'auto ho caricato tutto c'è vede quello un potevo fa lo fa più di skill lei va da cazzo però nooo era tutto vedi era tutto calcolato ah che bella magari te sei imparata e spallate siete imparata e spallate come si fa da una cosa come si fa da e spallate che cazzo ne so se no lo facevo riconciamo tranquilli da dietro ricominciamo che cazzo basta con questo duorcio occhi che si scarica sempre scarico magari giuro buongiorno lascia la prese se non ci sa duore metta carica ah ma su io si palla mamma mia mamma mia mamma mia oddio no 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 non è possibile non è possibile che fa ah non sta ma perde si che cazzo ma che cazzo ma che non so fa fa un culo vabbè fa il gioco ma no ti giuro non ho un come cazzo ci ha segnato perchè si ferma perchè si ferma che bella tu ti ricordi ah si a chi bello bello mi piaciuto si però va di passato e sta tranquillo ma è pure dentro non andiamo fuori gioco ma non avesse cioè non proprio basta sul culo ma culo di chi ma non t'ha la torta al culo quello eh che vuoi dire passato di fatti vedere mi sembra di primo fallo sei cazzo se sei cazzo se sei cazzo se sei cazzo che sta ammazzando ehm ma nè si il profeta di me coglioni c'è che importa scatta no che cazzo fai eri passato no ti 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 pensavo sul cazzo quando fai sti cosi oh devi gioca semplice devi gioca no non c'ho sempre che fai cose complicate io si è ripassato non passa mai con la palla uno cerca di mamma mia ma no ma che pezzo che cosiddetta oh fanno dai che hai fatto oh 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 no no c'è due che ne prendemooo dai no no non c'è voglio vedere madonna è riuscito ancora il passaggio ma ho fatta non passà fallo che è primo ? come ho fatta non passavo di 2 giri 2 gol eh menti non vuole anche perché come lo vedo no 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 la volta tutti quando la volta tutti a tutti non so la cosa come tu parli quella cosa la serie. entra ma può un altro gioco non è che è rimasto quello dentro dalle dietro no faccia nello studio mondo bambolo no non resta 9 al limite non lo so che è di nuovo non è vero, è vero, è vero che pare c'è incredibile il fortale sono 4 e dalla porta no, il trentrentrita quello che capo è il tuo cuore ma è quello che ho dato pass passamosa passamosa stai con il nannes appunto dovevo fare quello che volevo fare con il nannes dai cazzo va con jesus però sta a dormire dovrebbe ritigno dai 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 cazzo porca puttana fatica con un gollo che se crede passala cazzo cazzo mamma mia che rimonta ragazzi che partita abbiamo giocato non so vamo scappà ho capito però se io gli dico di entrare perchè non entra famogli male famogli male mamma mia vattene guarda no non è possibile se mu ha segnato questa cosa io me ne vado io finisco il rotto di vision 76 dai diamo la carica dai quello è rotto fatalo è rotto però grande trafano hai visto questo esce bene questo esce bene ogni volta si esce la spazza non fai cazzate che fai il vecchio trafano 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 no ahahahahah che cazzo mi sono col nervo ah 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 la gamba e 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 la gamba mandalo 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 vai che è tuo oddio no mamma non mi passava ma che tu mi passava stavo solo quello che era venuto a chiudere a te stavo solo passavi i gol è finita è finita è finita che era cosa imbarazzante ma che era no perchè i gioielli si abbracciavano vabbè Cabella Lukaku Vitinho Hernanes Dumbia 4 a 3 fomentato fomentato abbiamo recuperato questa mamma mia da tanto che non succedeva che recuperavamo una partita del genere recuperavamo ah 0.52 mamma rita hai visto vabbè dai trapani è tutto dai ragazzi è tutto mi raccomando fate tutto quello che fate vediamo di fa ogni video bella bella vedi un video di un'umma dopo ciao ciao ciao